un amico che non c'è più questo amico si chiama billy secchi ed era un grande batterista e jazzista oltre che persona impegnata nel sociale e anche nel suo mestiere che non era quello di fare musicista e il suo amico sorrentino è qua a fianco a noi proprio per ricordarlo in una maniera un po particolare con tanto di appuntamento perché altrimenti avremmo fatto un servizio ben diverso rispetto a quello che ci troviamo a fare adesso proprio perché si continua a pensare a billy a billy secchi certo certo intanto volevo dire che il concerto che ci sarà domenica e proprio sarà un concerto tributo dedicato appunto come ha detto antonello a billy secchi ed è un concerto che fa parte di un contesto di una serie di concerti di una rassegna di concerti di jazz che si terranno lì a linea notturna a cagliari via mameli il concerto di billy come è nato è nato per via del fatto che un carissimo amico che è scomparso già dal 2005 è appunto il 30 dicembre del 2005 si era riusciti a fare con l'aiuto di tutti gli amici di billy un concerto tributo al teatro delle saline con l'intento di farlo praticamente ogni anno questo purtroppo non è avvenuto per le difficoltà incontrate nel mettere insieme tanti amici tanti musicisti una cosa che invece è riuscita questa volta è appunto il 19 dicembre si terrà questo concerto dedicato all'amico billy e lo presenta marco lodo suo grande amico e suo compagno di avventura nei concerti è un contrabassista che purtroppo non riesce a suonare nella sua terra è un contrabassista si è trasferito a roma che purtroppo si è dovuto trasferire a roma suona con tutti i grandi musicisti del mondo in tutti i festival del mondo tranne che nella sua terra questa è stata una bellissima occasione per avere anche la possibilità di ascoltare in patria uno che profeta in patria non è allora all this jays domenica a linea notturna in onore al nostro amico billy